Buon pomeriggio e benvenuti al Circolo Sport City, questa è un amichevole della categoria esordienti 2005, quella in cui i padroni di casa della SD La Selcetta con la classica tenuta bianco-rossa ospitano i ragazzi dell'Orange Football Club in completa tenuta blu scuro. Abbiamo sicuramente bisogno di un amichevole e come questa per entrare in ritmo, per prendere confidenza con i compagni, il calcio d'inizio nel frattempo l'ha dato l'S di La Selcetta e Fortura è chiamato immediatamente a un grandissimo intervento. Football Club lo scarico fuori, il destro che parte e non c'è il giocatore, c'è anzi il giocatore all'altezza del palo lungo, manca la deviazione, porta praticamente sguarnita, sofferenza da Selcetta, qui Fortura viene mal servito dal compagno, attenzione che la porta è vuota ed entra la sfera e il vantaggio degli ospiti dell'Orange Football Club, Fortura messo in difficoltà da un retropassaggio, siamo 0-1. Ho deciso Nicolo Novelli con il filtrante, poi dentro l'occasione per il numero 9 a Zinnari, bravo il portiere dell'Orange Football Club che para a terra. Controllo a girarsi di Pietro a Zinnari, un ottimo movimento, poi da fuori Novelli e la parata sulla traversa, Novelli conferma ad essere in gran forma. Novelli a combattere con un avversario, che ha la meglio, provano ad uscire, lo fanno male quelli dell'Orange Football Club, sbatte sulla traversa il sinistro di Fiori, molto sfortunato qui, dribbling dell'avversario, palla a lato corto, occasione Orange, esce Fortura e poi il salvataggio, sfera ancora viva, Fortura, grandissimo intervento qui. Non ci sono gli uomini più alti in barriera, prova infatti sopra la barriera, il ragazzo dell'Orange vola, ancora Fortura. Rinvio, da fuori Fiori, stop col petto, rimane lì, a Zinnari, alla fine, riesce lui da bomber vero, sul rimpallo, mette il destro, uno a uno. Fortura male nel rinvio, si addormentano quelli della Selcetta e all'improvviso arriva il gol dell'1 a 2 dell'Orange Football Club. Spinta da Novelli, vinto un rimpallo, a Zinnari può andare, a Zinnari è solo, di fronte al portiere, ancora la traversa, l'azione prosegue, poi palla bloccata, sfortunata la Selcetta anche. Pressing alto che funziona, con fantasia, Sibilia se la sposta e il mancino, stavolta è vincente, grande esultanza di tutta la Selcetta, palla recuperata sulla tre quarti, Sibilia la mette alle spalle del portiere, 2 a 2. Ultimi scampoli di gara, Sibilia l'allunga, entra in area e va a centimetri dalla doppietta e soprattutto dal 3 a 2. Possiamo dire che hanno vinto entrambi, bel primo tempo da parte di quelli dell'Orange Football Club, poi ottima la rimonta dei rossi, termina 2 a 2 l'amichevole della categoria esordienti 2005.